Nella partita tra il Brixen che sarebbe Bressanone e Anaune Eh, cosa è successo? Viene battuta la palla a centrocampo, vedete E' la Anaune che giostra Certo, fasi di studio direi Però attenzione a questo numero 14 Si tratta di Bruegger che ruba palla Si invola verso il portiere Saperettano in aria, viene affrontato duramente No, no Con un colpo da maestro Ma che colpo da maestro? Ma questo è il golluzzo del secolo Colpo geniale Questo è un giocatore che merita la Serie A Lo vogliamo rivedere? Certo, se ogni volta che cade riesce a segnare Ricordate, hanno appena battuto a centrocampo Qui è stato bravo C'è un fraseggio difensivo Un altro un po' meno Astuto come una parina Ed ecco, Bruegger Vai Come faccio a segnare qui? L'unica è questa Ecco, pimp Con un colpo di tacco Ma dici che l'ha fatta apposta? Chiaramente Ma stai scherzando tu? Pensate di no, scusa, guarda Vi direi chiaramente Forse c'era anche fallo Ma lui dice, non è rigore, è inutile Allora la colpisco C'è da dire dalla sua che segue, vedi, la palla Pur per terra è esulta Ma guarda, sapeva che la palla sarebbe entrata Lui lo sapeva perfettamente